Il comune di Poggio Vicenze ha scelto il suo nuovo sindaco, si tratta del 41enne Antonello Gialloreto, esponente della lista civica Cambiamenti per Poggio Vicenze. Il neoprimo cittadino si è imposto con 383 voti, pari al 53-56%, contro le 332 preferenze ottenute dallo sfidante Bernardino Berardi, che concorreva sotto legida di un'altra lista civica, la primavera di Poggio Vicenze. Alta l'affluenza alle urne con 726 votanti, sui 1.082 aventi diritto, pari ad una percentuale del 67,09%. La coalizione di maggioranza ha conquistato 7 seggi in Consiglio Comunale, mentre sono solamente 3 quelli ottenuti dalla minoranza, tra gli eletti consiglieri anche Donatello Ricci, cineoperatore del canale TV Rete8 e collaboratore di Tico TV. Sì, le priorità sono sempre le solite, la ricostruzione e il piano regolatore. La ricostruzione è ormai ferma da anni, perché l'amministrazione uscente non è stata in grado di fare nulla per la ricostruzione. Noi da oggi cominceremo per iniziare la ricostruzione e far sì che le famiglie possano rientrare subito nelle proprie abitazioni. Grazie. Grazie. Grazie.